Sono ragazzi speciali che fanno dei percorsi speciali che hanno sofferto tantissimo ma soprattutto dobbiamo parlare di inclusione. Arriva dall'Ottocento il Carnevale d'altri tempi. In programma nel weekend è promosso dall'associazione Veneti schiacciati dalla crisi nella splendida cornice di Villa Margherita Treviso che diventa sempre più accessibile alle persone con disabilità. Questa Villa Margherita inclusiva servirà proprio a questo, a dare un futuro a questi ragazzi che per troppo tempo sono rimasti agli ultimi posti. Mostre, laboratori, giochi e pasticceria che vogliono trasformare la villa in centro nevralgico per le attività rivolte a chi soffre di disabilità ma anche a tutta la cittadinanza diventando così un punto di riferimento regionale. Credo che le iniziative che possono essere coltivate qui dentro siano molteplici e naturalmente anche gli investimenti legati a questa villa consigliano di avere più soggetti interessati però con uno spirito comune che è quella di mantenere aperta al pubblico e in modo particolare anche a persone con disabilità la fruibilità di questi spazi. Tra gli interventi che il comune si propone di attuare nell'immediato la messa in sicurezza dell'intera struttura tra cui il miglioramento dell'impianto elettrico e la creazione di un ascensore che possa facilitare l'accesso alla villa alle persone disabili o anziane. Inoltre tra le proposte c'è l'idea di trasformare una delle strutture esterne alla villa in biscottificio che possa dare lavoro ai molti ragazzi diversamente abili abbinando così la socialità all'attività lavorativa. Il lavoro è una parte integrante, sapere di essere riconosciuti e valorizzati come una parte importante che collabora alla produzione di qualcosa è fondamentale nel significato di vita di una persona. Un appello, un messaggio che lei vuole lanciare a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici? Aiutatemi!